una volta ero il re delle polpette adesso sono diventato anche il re delle tagine buonissima ragazzi volete sapere come si fa si fa così ok siamo sempre in marocco siamo sempre con la mia compagna di viaggio una bella tagine perché dovete sapere una cosa io me la metto sempre in valigia se sai mai che devo cucinare per qualcuno boh la tiro fuori e ce l'ho allora prepariamo una tagine di pesce per prima cosa olio extravergine d'oliva come sempre bello abbondante la cosa speciale del tagine che praticamente non devi sporcare niente perché fai tutto qua dentro quindi zero problemi allora prendiamo dell'aglio uno spicchio anzi due spicchi vanno interi ok tagliamo delle patate l'altra cosa importante che vi voglio dire si cerca sempre a seconda di quello che sono gli ingredienti come usiamo degli scampi scampi sono tre minuti a cuocere quindi dobbiamo far sì che le verdure siano tagliate in modo che si possono cuocere nel tempo che cuciniamo i scampi poi mettiamo dentro anche della cipolla perché la cipolla ci vuole sempre abbiamo sempre del brodo di pesce qua da una parte poi la tagine anche figa perché che cosa succede quando abbiamo da anche degli avanzi delle verdure magari ti rimane un pezzo di patata un pezzo di peperone perché lì non si butta via alla fine abbiamo un po di pollo del pesce si fa una tagine tutto dentro buongiorno buonasera l'importante sempre avere delle spezie in casa perché la tagine ama le spezie la tagine ama le spezie io amo voi è così il fatto no ok andiamo peperone così mettiamo dentro facciamo andare bene poi per insaporire prendiamo già un po di zampette di scampi e le buttiamo dentro così che andiamo a dare quel sapore di pesce poi prendo la testa una una due e una tre butto dentro quindi sentite già che fa odore di pesce di crostacei facciamo andare così è tutto molto molto facile poi intanto pulisco gli scampi avete visto prendo lo scampo lo schiaccio così così e lo tiro via poi dopo vado a togliere il nodo un'impasto tu così intanto va ok molto bene siamo quasi a posto un po' di menta perché la menta ci va sempre ok un po' di timo così due pistacchi possiamo mettere dentro anche delle mandorle a questo punto che è tutto tostato prendo il brodo aumento aggiungo il brodo così il brodo sarà sufficiente per finire di cuocere la pasta faccio così ok manca poco adesso bisogna inserire le spezie quindi mettiamo delle spezie marocchine che ha un purpurì proprio così spezie marocchine ha un purpurì apposta per le tagine che le troviamo in qualsiasi negozio bello abbondante così cardomomo e un po' di cumino eccolo qua il cumino sempre poi pepe l'olio è qua io qua dentro ci metto anche un po' di arissa eccola qua ok vado a coprire col coperchio quando si è tutto asciugato qualche minuto prima inserisco gli scampi allora a questo punto a tre quarti di cottura che cosa faccio tolgo per un attimo le teste le schiaccio così ok aggiungo del curry serve un po' di sale o è buonissima prendo gli scampi ti butto dentro così perché siamo pronti rimetto su la tagine e ci prepariamo per servirla perché è pronta buonissima fantastica ma io penso a una cosa cari amici se scoprite questo meraviglioso tegame non smetterete più di usarlo perché è facile facile basta mettere tutto dentro si copre non si attacca mai veramente è figo poi ti vengono un sacco di idee ti vengono un sacco di belle e buonissime ricette preparo due piatti perché la tagine è sempre condivisa quindi questo bello strumento qui va messo sul centro del tavolo voilà eccola qui la cosa incredibile che mi stupisco da solo un po' di prezzemolo guardate che bella un filo di olio sempre sono sicuro che vi piacerà cari amici siete pronti per assaggiare questa tagine di peso e con me allora eccola qua e una per me così voilà ci siamo un po' di sughetto lo faccio manina corta vado all'assaggio una volta ero il re delle polpette adesso sono diventato anche il re delle tagine buonissime e a anche ci siamo vado all'assaggio di più